...dipendente, cioè a un certo punto poi si va dappertutto, per cui sono state studiate poi alcune leggi che si chiamano il pacchetto, è stato cominciato negli anni 50 ed è stato siglato negli anni 70, per cui pensate quante discussioni, per fare in modo di raffacificare questo territorio e a molte di queste leggi che regolano il pacchetto ci sono dei principi facilmente condivisibili, ovvero che ciascuno ha diritto a sentirsi a casa in questa terra e cosa vuol dire? Per esempio che può riconoscersi nei luoghi e quindi leggere anche il nome delle piazze nella propria vita ... 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